Noi la partita l'avamo preparata in una certa maniera, poi quando giochi contro il Tolentino sai che devi lasciare qualcosa sul piano tecnico perché loro palleggiano molto bene e forse è la squadra che gioca palla più a terra cercando diverse soluzioni. Quindi eravamo preparata per andargli aggredire forti e alti però se in caso non riuscivamo dovevamo abbassarci e cercare di raddoppio su loro dove sono i punti più forti sugli esterni, hanno giocatori come Mongello, Valdese, Mandorlini che sono giocatori forti per la categoria. Poi c'è stato questo vantaggio nostro, lì abbiamo costruito la nostra partita, siamo stati bravi a fare il raddoppio, poi nel secondo tempo abbiamo controllato il Tolentino ma non ci siamo abbassati di nostra iniziativa ma è stato bravo il Tolentino a farsi abbassare, non riuscivamo più a riconquistare palla, abbiamo sofferto però avevamo speso tanto anche il primo tempo. Comunque sia però dopo il secondo tempo ci sono stati grandissimi pericoli per la vostra porta. No però sai nel calcio gli episodi sono molto importanti, loro sono arrivati diverse volte sul fondo, hanno buoni colpitori di testa, bastava poco per riaprire la partita, poi dopo abbiamo deciso di giocare un pochino più sulle ripartenze però il Tolentino ci chiudeva gli spazi, recuperavano loro la seconda palla, lì un pochino soffrivi però ripeto giocare con il Tolentino e non soffrire è impossibile. Il 2-0 forse è anche troppo come risultato passivo per una partita che non è stata proprio totalmente nelle mani dell'Atlatico Gallo? Io non so, non è stata assolutamente nelle mani, io penso che abbiamo sempre fatto la partita noi dall'inizio alla fine, il primo tempo ricco anche di bel gioco, siamo andati sul fondo tante volte, ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta per tutto l'arco della partita ma penso che sia difficile anche commentare un 2-0 dopo una prestazione del genere. Non lo so, potevamo avere miglior sorte su alcuni episodi ma probabilmente ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta, quello di sicuro però per il resto penso che il secondo tempo siamo stati sempre costantemente nella metà campo del Gallo e nel primo tempo abbiamo fatto delle buonissime cose, poi un gran gol di Paoli e un gol sul rimpallo dentro l'area, sono stati più furbi probabilmente di noi a sfruttare al massimo le occasioni che hanno avuto.